bene rosanna ciao elena ciao a tutti ed è una sdraiata bene iniziamo conto da 5 1 e ti connetti a elena più profondamente 5 4 3 2 un gioco se mi senti a se adesso se non hai sentito il conteggio sì dimmi se la vedi se la vedo lei ed è seduta su una serie di cubi come un semicerchio fatto di cubi no in mezzo ce n'è uno più alto e poi a lato ce ne sono altri che man mano sono più bassi e vanno a finire il semicerchio è seduta su quello più alto ti dà l'autorizzazione e se si è messa lì perché dice da qua da in cima ai miei problemi vedo meglio va bene vibrazione 795 milioni consapevolezza 119 psp 38 42 vite precedenti 2827 percentuale di cervello 8,8 interferenza allora c'è un rettile un amante e un cedino di continuo vabbè mattina e zeus e dl 5 entità mentali interferenza mentali che ci sono sì ce ne sono due una di livello 5 1 di livello 2 ok qual è quella della base autostima di se stessa di considerazione di se stessa di pensare agli altri questo è il punto diciamo principale di rosanna sicuro lì è quella di livello 5 perché bella tosta questa è sì quello è proprio scannerizziamo la nome dell'entità trudeau trudeau ok cosa fa allora prende allora ritello di mente è come se vedo che è come se agisse sì io guardo l'entità come se avesse come se avesse sopra tipo un 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 guscio semisferico ok e di fianco portano tipo tre bracci da ogni braccio agisce su una una parte di rosanna ok allora c'è una parte che agisce sul mentale e quindi ecco gli cambia proprio i pensieri quindi che ne so lei sta dice sono triste perché inizia andare a vedere dentro perché triste mentre lei fa questa cosa il pensiero che mi viene messo in testa è perché mio figlio caduto si è fatto male ok e non è il motivo per cui è triste esatto no no cambia proprio verso l'esterno per c'è gli mette proprio il pensiero verso una persona esterna o una situazione esterna di cui lei poi dopo se deve prendere cura poi agisce anche a livello fisico ok quindi vedo che quando è un'emozione negativa ok gli abbassa la vibrazione e gli fa sentire una parte del corpo che non può come se gliela limitasse no quindi che ne so non ho tempo per me per andare a correre è il suo pensiero reale allora diventa non ho tempo di andare a passeggiare lì perché devo prendere i miei figli e poi mi fa male il piede adesso ho capito le scuse sì però glielo fa sentire veramente il male c'è e poi c'è c'è un'altra parte che sulle emozioni vabbè che ho già spiegato adesso nel senso che gli abbassa le vibrazione dell'emozione quindi aumenta è molto più grande e la 2 la 2 è quella che che gli fa gli fa credere che deve avere tutto sotto controllo no quindi si più che sotto controllo adesso mi era più chiaro è come se è come se ci fosse un tasto on off 01 bianco o nero ok quindi ho tutto o niente quindi che ne so come diceva prima il professore allora i professori sono tutti così e quindi io li elimino tutti no oppure se c'è se fosse il contrario sono tutti bravissimi ma nichea o bianco nero non c'è mai il grigio esatto ok impianti allora vedo un impianto mentale che è come se fosse un collare ok da dove partono principalmente gli impulsi fisici collegati ai pensieri dell'entità di livello 5 poi vedete e teoric i mentali sono finiti sì sì c'è solo quello allora c'è un impianto eterico dove c'è il plesso solare poi ce ne sono due sul parmi nelle mani e due sui dorsi del piede ok causa del gonfiore addominale no penso che sia più non è una causa diretta esoterica diciamo è più una conseguenza del suo trattenere l'energia emotiva qua vedo proprio che non c'è un flusso è bloccata l'energia ma non è bloccata da da impianti o dell'emozionale e quale emozione la blocca grande solitudine di grande emozione di solitudine principalmente vede in mezzo proprio una palla così e poi tutto intorno la un po di tristezza e delusione c'è proprio la tristezza la delusione questo è l'emozionale di rosanna sì poi ci sono anche un po le altre emozioni negative ma sono più piccole più sparse dice proprio un blocco così dolore al cuore causa esoterica non siamo 16 se cosa esoterica è data da quell'impianto che dicevo mentale quando arrivano gli impulsi è uno di quei dolori che le fanno sentire per aumentare per diminuire le vibrazioni delle nette delle emozioni non fare diventare ancora più basse le fanno sentire anche il dolore causa esoterica del fatto di essere nata occhi aperti allora in quel momento lì è come se avesse come se fosse stata svegliata da un flash come se vedo che è come se avesse avuto una cosa qua con un pulso elettrico che gli ha fatto fare così con gli occhi cordone al collo due volte due giri allora non gli è stato messo mai come se lei nella pancia dovesse sempre scappare è come se si sentiva vedo proprio ma vedo questa scena nella pancia di lei nella pancia come se avesse qualcuno qua che lei sente come se la seguissero e quindi si rigirava nella pancia per cercare di scappare questa maniera era un falco uniforme c'è un'entità che si portava da un'altra vita che era già lì se quindi quello tornata sì 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 ma no 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 non c'è non c'è una certa età ce n'è se n'è andata tra i 12 e 13 anni c'è stato un evento che l'ha fatta molto vedo proprio come se a scuola c'è stato un evento che in cui lei si è sentita benissimo si è rilassata rispetto a un certo aspetto molto più accolta all'altezza in quel momento lì e quindi quello so perché rosanna sta facendosi con la testa va bene ci sono un action sì 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 le luci che vede in cielo sono ad action se testimoniano il fatto che è sotto un progetto di ad action sì 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 esatto quello si lascia vedere questa roba per iniziare a a farle vedere questa particolare ok ha scritto un tema a scuola so perché leggo al contrario quello che mi ha scritto dovuto leggere da destra a sinistra e come si chiama il progetto di rosanna delle entità e guardante rosanna allora allora si chiama incapsulamento io ho visto il nome tanto stavo già guardando scusato ero già nella scena che mi fa vedere cosa cosa sarebbe diciamo l'obiettivo allora l'obiettivo sarebbe quello di far sì che durante le abduction durante le abduction la mettono invece che nel solito lettino con i tubi la mettono tipo in un uovo questo uovo ha tutto uno dentro a uno strato di elettromagnetico ok che traduce l'energia che emana rosanna ok la traduce al guscio esterno il guscio esterno con dei fili lo manda dei computer e dei database lo scopo è con questi dati poi attraverso gli impianti che ha gli mandano ci sono energie in una certa maniera in certi momenti poi grazie all'entità mentale di livello 5 allora l'entità mentale di livello come se vedessi che tutte le entità se lo vediamo sempre più spesso questa cosa che tutte le entità si sono accordate ok per seguire lo stesso scopo quindi ognuno fa la sua parte no e allora mentre l'entità mentale di livello 5 e quella di livello 2 le mantengono le vibrazioni basse che quindi emozioni negative aumentate dolori le entità che fanno l'adduction ok gli ciucciano l'energia in un certo momento della giornata poi a volte cambiano per vedere come poi cambia durante le abduction quello che viene tradotto ok lo scopo durante il giorno quando ci sono energia quella pian piano di chiuderla dentro a una cosa isolata per far sì che lei poi si senta il niente cauccio sotterica dei problemi ai piedi e operazioni cose varie tutto il capitolo piedi allora li ha due impianti gli impianti sono stati messi durante gli interventi prima aveva già male perché comunque era un punto dove quando facevano le abduction molto energetico sì perché perché scarica energia esce da lì si esce da lì è come se entrasse dalle mani esce dai piedi suggeriamo a rosanna magari dovrà fare vuole 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 stare bene va a farsi una passeggiata nel bosco magari si toglie anche le scarpe ma grounding con le calze la grounding ascolta con le mani l'energia del bosco e scarica genissimi causa sotterica del fatto che non ha il segno sul braccio dei vaccini fatti da bambina vedo che da bambina diceva a schermarsi dalle cose che fuori non le non le piacevano la facevano stare male che le davano fastidio la vedo proprio che è come se ogni tanto si isolava in posti così aveva tipo l'esigenza si isolava 10 15 minuti e si concentrava e non so se lei ne era cosciente ma vedo che facendo questa cosa si crea si creava proprio un guscio ok è come se si ripuliva nel corpo infatti lei dice che non si amala mai esatto proprio che ha una capacità che ha allenato da bambina adesso probabilmente non si accorge neanche che lo fa però è proprio come se allora fa tipo un isolamento che intorno alla pelle e poi è come se passasse uno scanner vedo nel corpo e che riequilibria a livello fisico quindi anche i sintomi che lei sente sono molto temporanei finito sintomo poi tipo il giorno dopo o qualche ora dopo lei è come se passasse uno scanner e tutto si riequilibra ma è quindi la saluti ferro a questa causa di rica perché però ha avuto praticamente l'unica volta nella sua vita una febbre molto alta 41 col collo delle torri gemelle è capitato solo quella volta lì cioè per caso nel senso che non l'ha fatto volontariamente ma è come se lei si fosse collegata improvvisamente a tutta l'energia di quel di quel posto lì e delle persone in quel momento c'è al caos vibratorio energetico di quel momento lì e questo le ha scombussolato tutto la è come se vedo proprio che come se cadono no cadono le due torri e quindi inizia il caos delle persone ancora più agitate no già prima per gli ai per le esplosioni per le esplosioni nelle torri iniziava a esserci il caos poi quando sono crollati vedo proprio che le energie c'è un incrocio una roba la tecnologia blue beam cioè proietto nel spazio delle immagini delle immagini che non esistono certo assolutamente erano ieri si proiettati mentre le esplosioni erano cariche dentro il stessi erano inclusi di state sì ok ragione per cui le ha fatte collare allora allora li dovevano doveva sparire un sacco di roba che uffici archivi vedo computer con dentro dati così già da tempo nel senso quel posto lì doveva sparire quindi diciamo che la soluzione che stavano pensando diciamo in maniera serena serena nel senso che non si sentivano braccati era quella di chiudere gli uffici e spostare gli uffici in altri posti e con questa scusa fa sparire diciamo durante il trasloco tra virgolette un sacco di cose ok questo però non è stato possibile perché sono riusciti sono stati braccati quindi ricattati di dover far passare tutta una serie di regole finanziarie che a loro stavano bene e avrebbero ostacolati ok e tra questo e e lì c'erano tutti questi computer che sembrerebbe siano computer quanti c da quello che vede quello che vedo io poi se lo se vedo le informazioni corrispondono ai computer quanti c ok io vedo sotto vedo tutto una dove in quale torre la prima che è caduta la seconda la seconda che siano sotto sotto ok seminterrati si capito vedo queste enorme stanze si si era nascosta la nascosta molto blindata vedo questa enorme stanza con questi quadrati vabbè la fine del signoraggio il nuovo sistema economico queste sono cose che si leggono in internet da tanto però vorrei capire cosa io lo vedo sì io vedo quello no no adesso vedo questa cosa qua vedo queste non la stanza sotto blindata nel senso che pochi sapevano che c'era con queste enormi scatole c'è computer enormi con tutti dei collegati tra loro se se non è perché non è stata impedita sta cosa dai buoni da quelli che stavano per introdurre nuovo sistema economico la fine del signoraggio il denaro inventato che non corrisponde alla esatta quantità di oro presente nei vari stati perché non è stato impedito perché allora non erano abbastanza forti tra virgolette per a livello anche energetico di potenze per contrastare gli infiltrati vedo vedo un po di persone che hanno fatto sono state comprate allora cerco di descriverti quello che vedo allora ci sono vari gruppi tipo otto squadre che hanno compiti diversi specifici lì per riuscire a portare a termine questa cosa quindi la firma della nuova legge e l'avvio di questi di questo computer a livello degli stati uniti ok all'interno di questi otto gruppi ci sono sono state come si dice aspetta la parola corrotte ok tra tutti 20 persone e questi sono hanno fatto praticamente sono 10 hanno fatto la spia tra virgolette al deep state e quindi questi si sono organizzati e hanno fatto crollare tutto poco tempo prima e non è tanto prima ce l'avevano quasi fatta direi 20 giorni prima va bene perché lei se connessa così tanto alla al 11 settembre allora e allora un po di tempo prima potrebbe essere un mese prima ha iniziato dei contatti con delle persone che avevano a che fare con gli stati uniti tipo non so se un gruppo spirituale o qualcosa del genere che aveva un collegamento con gli stati uniti che non so come si è iniziato no a sentire a parlare della vedo che da lì ha iniziato a sentire parlare della cultura americana gli raccontavano delle cose così e quindi era molto collegata a questa cosa e per caso tra virgolette come ho detto prima senza che lei fosse conscia quel giorno lì si è collegata tantissimo a tutte le persone la va bene altre cause esoteriche la sberla da bambina al coccige più o meno allora è stato un tentativo di abduzione ed action ma adesso è svegliata era pancia in giù ok quindi l'avrebbero prelevata così ok da dietro e nel momento in cui la stavano prelevando le si è svegliata e quindi come se avesse sentito lì il contatto forte di quello che non sono riusciti a fare va bene iniziamo balliamo abbiamo le porte del cinema invitiamo i tre figli il marito la madre e la fiamma si c'è non vedo la fiamma però vedo tre anni e affini la fiamma non è incarnata no anime affini tra anima e fini il marito è un anima fine a tre figli non viene mai dovuto bene i tre figli vengono e davanti in prima fila con la madre vimpi tutti entusiasti sì la madre viene sì ok qua però non ci sono concifissi non ci sono preghiere a bella vedo sai bene che mi manca la zia medium viene la zia medium sì che è disincarnata vero giusto no il colletto di incarnata la zia medium no 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 e viva vivano allora perché la vedevo è arrivato a qualcuno di disincarnato però di medium solo non è la zia vabbè messi la lì donna quindi se un altro aspetta aspetta non ho capito rosanna la zia medium e disincarnata è morta sì la zia medium è morta va bene chiama anche il padre ma mettiamoli li portiamo di vivi adesso tre figli il marito viene no no la zia medium è morta le tre le mamma c'è le tre fiamme e le tre anime gemelle o anime fini sono tre uomini due uomini una donna sono i vicini a rosanna dove un uomo si allora un uomo vive zona di parma più o meno c'è una donna è una donna che invece tipo miglia tipo ventimiglia quasi al confine con la francia e l'altra invece in turchia l'altro uomo ok se visto che rosanna è eterosessuale se incontrasse la donna che succederebbe una grandissima amicizia grandissima amicizia e vedo una grossa una grossa affinità anche livello lavorativo nel senso collaborerebbero fantasticamente in maniera creativa con un'attività loro ecco è venuta proprio una scena così questo capita spesso no che quando si ha un amico o un'amica dipendentemente dell'assesso con cui si va perfettamente d'accordo possono essere delle anime gemelle per cui non c'è un attrazione fisica per ovvi motivi ma c'è un magari anche del senso giusto però non c'è c'è una fatta intesa quindi un collega un socio collega un un amico dipendente di negozi va bene e adesso creiamo la cosa che farà più paura a rosanna più di odino più di tutti gli impianti più di tutte le entità e teeriche e mentali facciamo e costruiamo un grande bellissimo con una bellissima cornice barocca barocca un grande bellissimo specchio ecco l'abbiamo creato sì lo specchio magico di rosanna rosanna dopo decidere se andare lì davanti oppure no se si mette davanti ok e allora entriamo nello specchio andiamo in una vita parallela in cui c'è la risposta al suo non considerarsi non confrontarsi con se stessa allora in questa allora vita parola che mi ha fatto vedere lei che pedala c'è nessuna bicicletta ok con dietro una specie di trasportino tipo quello dei bambini che porti bambini sulla bicicletta è un occhio se in una grande città vedo grattacieli è una vita su una linea temporale diversa da questa sì quindi è proprio come se fosse questo tempo e più o meno se è un tempo anche futuro può essere esatto esatto ma mi sarà venuto in mente ma infatti è come se questa bicicletta non c'è andasse veloce no quindi lei potrebbe potesse andare in vari posti anche lontano perché non è che deve pedalare fare fatica come la bicicletta normale no quindi la vedo anche come tipo una bicicletta volante con le macchine volanti ma bicicletta no con la struttura così con questo rimorchio e allora sto cercando di capire cosa trasporta perché è il suo lavoro il suo lavoro è quello di portare questo coso con in questi grossi grattacieli è come se portasse è una scat delle scatole piene di informazioni ma sotto forma di energia quindi come se fossero degli accumulatori quantici ok che li consegna al destinatario e questa cosa può essere collegata a delle specie di computer che prendono le informazioni e poi ecco come se si lei va in questi posti dove producono delle cose no in vari posti e dentro queste scatti scatole di accumulatori quantici ci sono le istruzioni per le informazioni per produrre delle cose quindi che ne so va viene uno scatolificio hanno bisogno di un accumulatore quantico che dica come fare una scatola rosa può di tot dimensioni dice scritto lo collega nostri computer questi partono e fanno queste cose qua fanno perché questa vita è collegata a rosanna allora quello che rispetto all'aspetto a quello che tu mi hai chiesto sul fatto che lei non riesce a andare a vedere se stessa dentro ok mi fa vedere che lì con questa era un punto dove lei e molte persone tante persone diciamo rispetto come percentuale della popolazione sono in grado di tradurre anche le loro emozioni interne in energia quantica e a come emetterla cioè se io la devo descrivere a qualcuno che magari è lontano che io la posso mettere in questi accumulatori quantici e trasmetterla così e all'altra persona arriva esattamente quello che io provo è una roba si è una cosa bene però lo sai come si chiama questa rosanna nella vita genni 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 lo sa che di qua rosanna con la stessa ps sta facendo una vita così è soddisfacente lei scoppiata a piangere mentre ci raccontava dei punti direi che non è così contenta no no infatti quello che vuol far che mi vuole far vedere genni è che questa informazione la può trovare rosanna in questa vita questa capacità di riuscire a tradurre le sue emozioni proprio come sono e di poter centrarsi su di sé tirare fuori le emozioni e rilavorarle quindi la prima cosa che rosanna non riesce a fare in questa vita è capire che cosa la fa star male no quindi il primo passo è riuscire a entrare in sé che quando lei prova prima diceva io vedo il vuoto ma perché è come se le interferenze che ha le facessero vedere il vuoto no così lei non può entrare proprio quindi il primo passo che deve imparare è entrare proprio e vedere ok puoi prendere l'emozione negativa l'emozione che la fa star male quindi io vedo che ne so io adesso entro in rosanna vedo come insegnanti dei figli no sì per esempio no frase insegnanti dei figli e emozione è può essere il mondo che insegnano ai miei figli a me fa star male per i miei figli c'è non voglio come c'è questa cosa qua per i miei figli la mia emozione soffro perché costruiscono un mondo che per me che non voglio per i miei figli ecco quindi la traduzione dell'emozione è quella quello che le fa male a lei questi creano un mondo che io non voglio per i miei figli ok quindi a questo punto è consapevolizzata l'emozione quando ha la consapevolezza dell'emozione trovare una strategia per centrarsi quindi aumentare le sue vibrazioni e fare qualcosa di diverso per far sì che questa emozione cambi no quindi rispetto a agli insegnanti allora ci sono varie ci sono infinite possibilità che può essere che possono essere o cambio scuola ai miei figli o non li faccio andare più a scuola o trovo un altro modo per comunicare con gli insegnanti cioè ci sono varie infinite possibilità però nel momento in cui ti abbia in chiaro qual è la tua emozione tu puoi agire puoi scegliere poi infinite possibilità anche chiaro adesso non l'è chiaro niente di questo in più non vede neanche le infinite possibilità perché le interferenze le fanno vedere o nero o bianco certo va bene vabbè causa delle ricade fatto che il marito la contrasta che lei non vuole non ne può più eccetera che sono differenti esatto a consapevolizzarsi a e lui no lei viene dal faccio in tauri come le ha detto la zia no medium poi hanno detto avevano detto sì no no assolutamente no non viene dal faccio in tauri la storia lei era giovanna d'arco no no che lei incontra sempre persone che hanno giovanna d'arco non era giovanna d'arco ma io vedo che in quel periodo lì lei è stata comunque la presenza rogo e perché la strega ce la vedevano come strega perché riusciva a guarire lei ha visto perché lei incontra sempre persone che sono collegate con la vita di gesù prima aveva un'interferenza aveva un'interferenza che era legata ed un elohim che era legata appunto tutto il mondo cristiano diciamo che vabbè quella l'ha tolta è riuscita a consapevolizzare e ha detto io basta era proprio tolta a volte lei riesce proprio a fare queste cose a eliminare le interferenze però non è consapevole che l'ha fatto lo fa e va bene se lei adesso imparasse a farlo in maniera consapevole è a posto continua incontrare persone legate a gesù perché è un po le interferenze le usano queste sue memorie per cercare di reinterferirla per quanto riguarda l'aspetto religioso ok quindi interferenze che ora usano questi pensieri lei avrebbe visto la fine dei tempi le ha detto a questo punto la medium mi sembrano ed è così allora quello che ho visto mentre lei lo diceva mi è arrivato assolutamente l'immagine diretta che questo momento è un momento di completo ribaltamento ok quindi va beh quello che vediamo di solito che c'è lo traducco così perché quello che mi è arrivato è che tip state sta per crollare quindi avremo l'opportunità di state di creare una nuova società basata completamente sulla forza dell'anima quello che mi arriva ok cambia tutto però se cambia non è più necessario fare il prese per l'albero di natale non è più necessario voler bene al marito per buona creanza e buona figura sociale non è più necessario rispettare ogni genere di regola sociale no nel senso rispettare anche la rivoluzione cioè rispetti no rispetto delle altre persone accettarla come regola e abbassare la testa cambia tutto bisogna essere disposti a cambiare anche noi se quindi specchi da morire specchi tutta la casa ci si deve stare allo specchio dalla mattina alla sera è tutto quello che non ci piace si deve cambiare subito senza lacrime subito si cambia immediatamente agire 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 dentro proprio come se fosse una piscina enorme dentro di noi e e tirar via ogni bolla che che inquina la piscina ok mettiamo in una bolla a proposito di bolla tutta la minchiata della religione la religione gli angeli le preghiere le novene eccetera la mettiamo sul palcoscenico nel cinema e la facciamo scoppiare se a qualcuno del cinema non va bene se ne va se qualcuno nel cinema che è tanto legato a questo genere di cose vuole ascoltare quello che contiene la bolla di tutte le nostre sessioni quello che abbiamo già detto non sono voglia di ripetere resta parliamo della madre fuori a rimane si angelino rimane via a vedere ok anche lì è come se angelito e dl angeli succhiatori della sua energia tutte queste robe non ripeto c'è voglia non ci sono voglia di parlare di religione un'altra volta un altro giorno ma che fa che fa la madre dentro fuori allora la mamma rimane perché la vedo molto curiosa dentro dentro molto curiosa di sapere di tutto no quindi di informarsi così diciamo che rimane è come se con le sue interferenze le avesse proprio il timore di c'è la vedo che dice se io non prego chissà cosa mi fanno ecco quindi diciamo quell'aspetto lì un po rimane però vuole assolutamente vedere tutto intorno ok io non sono crudele la mamma non ma ne frega niente mamma di rosanna non è la protagonista di questa sessione quindi è sempre lì e lo specchio noi non siamo qui per i figli di rosanna per la mamma di rosanna per il marito di rosanna per il vicino di rosanna per il postino di rosanna siamo qui per rosanna rosanna ha travolto la sua vita da un mese e mezzo ha iniziato ma continua a non parlare di sé rosanna deve parlare di sé i due primi punti sono sulla madre c'è frega niente della madre la madre fa il suo percorso è lì nel cinema evviva non se n'è andata bene se questo poi si rifletterà nella vita della madre poi di maniera e di per la significativa meglio per lei se continuerà a pregare vuol dire che in eterico si è svegliata nel fisico e nel mentale no sono problemi della madre non sono problemi di rosanna qui bisogna essere così o adesso soprattutto considerando che bisogna fare un passaggio bisogna essere così crudeli no giusti consapevoli di come funziona il gioco vorrei aprire una piccola parentesi sullo specchio mi sono sempre domandato e quindi ne approfitto te lo chiedo cos'è a livello esoterico ed energetico lo specchio di ossidiana come dei portali che danno dove che aprono l'ingresso a chi allora ossidiana è una sorta di vetro naturale vulcanico nero che può essere in alcuni casi molto rare perché si spacca levigato e quindi se viene creato uno specchio in ambiti wawik ma genera eccetera viene molto utilizzato e a volte viene edulcorata questa pratica cioè viene ridotta a giochino questa pratica un po come la ouija eccetera ma in realtà anche io so che è molto pericoloso da da lì viene di tutto e allora la vedo poi la vedo la usano anche proprio per le per le basi sotterranee aliene ok che è facile da camuffare anche con gli ologrammi ok quindi vedo troppo fa un proprio un portale energetico con una certa energia ci può passare attraverso ok con un certo vibrazione e la usano anche però proprio per il passaggio allora questa è la prima volta che la vedo questa cosa perché infatti non mi era mai chiaro mi era chiaro come l'energia come si collegasse l'energia del delle dimensioni esoteriche e della matrix ok vedevo che si collegava durante i riti soprattutto i sacrifici ma non capivo come in effetti usano l'ossidiana fa proprio da portare energetico e quindi si materializzano queste energie e anche al contrario quindi l'ossidiana venuti lo specchio d'ossidiana viene utilizzato nei sacrifici per chiamare le entità lì presenti ma l'ossidiana è essenzialmente un materiale vulcanico e per questo motivo che ci sono spesso avvistamenti ufo nei vulcani e sente le eruzioni la palma di canale delle canarie cosa succede lì adesso sta continuando e rottare rottare sta cambiando anche i confini dell'isola perché ormai è finita un sacco di roba il mare vabbè quello lì l'hanno attivato artificialmente ok allora è come un posto di controllo lo vedo come un posto di controllo più che altro delle attività appunto meteorologiche quindi dove c'è controllano anche le attività dell'art in tutto il mondo la base vede una base di sotto militare che però è adibita a fare queste cose qua va bene chiuso per la parentesi dello specchio ok la premonizione dell'arrivo dei figli a una causa esoterica no diciamo che se da religiose che per aumentare diciamo la fede della mamma e di tutti alla fine perché prima era religiosa anche rosanna fa sì che fanno vedere cosa sta succedendo nella matrix ok quindi loro non potevano sapere che rosanna loro persone terrene non potevano sapere che rosanna era incinta in quel momento ma e quindi alla madre hanno fatto arrivare al messaggio in maniera tale che sembrasse che le l'hanno portata che il padre è morto quindi tutta sta roba religiosa abbia fatto sì che rosanna rimanesse incinta quindi padre però chiamiamo il padre e la zia medium disincarnati a proposito di padre sono arrivati sui due sì la zia medium è interferita allora era interferita appena prima c'è mentre arrivava era ancora interferita aveva sempre questa interferenza che vedo manti delegata a 3dl che era quella che faceva canalizzare i messaggi no ma appena arrivata e ha visto come funziona ha consapevolizzato e si è staccata l'entità dell'interferenza è quello che appena arrivata ha detto ma guarda questi qua che mi hanno fatto fare delle cose che ha visto proprio che ad alcune persone quello che canalizzava ha fatto male c'è le fatte ha fatto creato dei danni e quindi si è accorta di questa cosa in questo momento va bene apriamo portale aureo e che chiediamo al padre si vuole lasciare un messaggio alla figlia era necessario rincontrarci in questa vita perché il nostro percorso nelle altre vite non era fin era ancora terminato basta questa cosa cosa non sono per niente d'accordo con quello che ha detto perché tutto se estremamente relativo e glielo mostro al padre lo vede non c'è nessuna vita che necessaria sono tutte scelte non c'è nessun karma non c'è nessuna roba da scontare non c'è nessun bisogno di sono solo scelte lui voleva rivedere rosanna che è stata la moglie la sorella la figlia apparente il marito quel che vuoi e ha scelto di rivederla non c'era nessun bisogno lo vede se lo vede non è così magari mi sbaglio ah no lui lo vede dice in effetti come scelta era quella l'esperienza che per me era più efficace per capire quello che devo capire cosa che cosa ha capito con la figlia rosanna nelle varie vite dice ha visto adesso adesso che tu gli hai detto così no prima per lui era è come se avesse fatto prima come vedeva lui erano delle vite che doveva vivere con con la psd rosanna perché dovevano essere vissute no come se lui adesso pochi minuti fa far migliorate pensava che c'era scritto che lui insieme a rosa alla psd rosanna doveva vivere cinque vite e quindi questa era la quinta aveva chiuso l'esperienza ok perché fine a se stessa in realtà ha visto quando tu gli hai fatto vedere questa cosa lui si è reso conto che ha scelto di vivere queste cinque vite con la psd rosanna perché con lei era è stata ideale l'esperienza di cambiare i ruoli con la stessa ps nelle cinque vite della famiglia va bene portale aureo e li salutiamo ok sono entrati e andiamo con rosanna nel suo cluster passando attraverso lo specchio magico di rosanna ovviamente e non di ossidiana no no andiamo al cluster come lo vedi ogni vita è una cana di bambù più contratti a e più che più pezzettini a non sé che ogni tanto che ha come se fosse quello che vedo io come c'è una cana di bambù come se fosse composto da tanti pezzi uno sopra l'altro ok quindi ogni contratto è un pezzo uno step da un modo un modo esatto sta prendendo un portale definitivo e c'è lista lanciando dentro ok le insegniamo a creare una d'eterno ok e l'ho mostrato adesso lo sta facendo ok l'ha fatto è come il tuo quello che lei fa si è anche più grande l'ha fatto beh adesso lo può lasciare qui nel suo cluster a guardiano diciamo in modo che non ci siano più nuovi contratti non sia facilitata la possibilità che succeda qualcosa questo non per questo importante non per non fare un lavoro quotidiano di centratura di pulizia non paranoica ma divertente rilassata eccetera ma per sicurezza perché vivere nel timore di essere interferiti non è il messaggio che noi diamo e non è secondo me per niente la strada diventare vittime di maniera di persecuzione ne ho conosciuto alcune di persone alcune di persone e non ce la fanno a vivere la vita è qui e adesso è nella materia anche nella materia e va vissuta vincendo giorno giorno per giorno non temendo le interferenze altrui che ci sono in ogni caso scegliendo non voglio l'interferenza dell'insegnante non mi interessa l'interferenza della mamma la mamma può dire tutte le novene che vuole su di me non mi riguardano mi rimbalzano addosso tornano indietro così la sua energia le ritorna indietro visto che lei sta battendo via e la propria energia dandola alle interferenze e basta andiamo nell'avatar come lo vedi vedo come al solito però si è messo una cresta tipo quello dei muoicani via senza neanche pensarci non saranno più non ci interessa sapere la cresta carnevale lontano posta per attirare l'attenzione ad eterno ma questo lavoro si può fare solo alla fine dopo una certa consapevolezza dopo aver capito una serie di cose c'è fatto preferenze ritorno sì ok 59 ad eterno uno nel corpo fisico dove lo mette lo mette nel cuore corpo emozionale su quale ex emozione negativa lome in quale posto dove c'era un ex vecchia emozione negativa lo mette mette in mezzo al posto dove c'era con le enorme bolla proprio in mezzo alla relativa a quella solitudine che norme che aveva corpo mentale in mezzo alla cesta bello corpo bene subliminale nel corpo subliminale nel corpo eterico lo mette più o meno a livello di questo orecchio testo ok esiste ancora qualunque tipo di impianto qualunque tipo di entità abduction assolutamente niente ok mettiamo un ad eterno ma accanto a ogni specchio di ossidiana presente sulla terra tale da farle spaccare e crepare definitivamente lo facciamo tu e dio elena non c'entra niente cosa mi dimentico ogni specchio di ossidiana viene disattivato distrutto in eterico nel fisico l'importante che lo sia in eterico e i portali vengono disattivati ora così vostri riti ve li fate ma ve li succede solo voi non arriva nessuna entità lei come la vedi a quanto vibra adesso adesso vibra a 27 miliardi però da 795 milioni da un miliardo scarso percentuale di consapevolezza 175 psp e 53 47 ok si sono invertite sono quasi in equilibrio vite precedenti 2314 cervello 9,2 bene rosanna va adesso davanti al suo specchio e si lascia un messaggio finale dice adesso adesso abbiamo già creato l'apertura per entrare dentro e andare a vedere chi sono e quali sono le cose che mi fanno stare male quindi la strada adesso è aperta c'è solo da allenarsi a entrare uscire entrare uscire entrare vedere elaborare fare nella nell'azione la cosa fondamentale è una volta che tu hai consapevolizzato qual è la cosa che ti fa star male agire nella materia agire proprio nella materia come dicevi prima tu è veramente quel esercizio che tu hai detto è molto efficace proprio nel bosco a piedi nudi quindi prendere l'energia sentire l'energia delle piante degli alberi dei sassi degli animali ok senti imparare a sentire che passa nel corpo e poi restituirla diciamo alla natura dai piedi proprio fare questo allenamento cercare di sentirsela così ok un messaggio relativo ai talenti anche se secondo me talenti uno se li deve scoprire da soli da solo una cosa che ho notato prima mentre lei ci esponeva i punti e che ha molta creatività e armonia nel mettere le cose in casa no per esempio tutto molto armonico vedevo degli oggetti delle cose che erano proprio notate erano nel posto come se fosse il posto perfetto per quella cosa ok poi negozio no sì esattamente quindi quello che mi viene da dire che può creare lei queste cose e si proporle da abbinare nelle nelle case o anche nei negozi delle persone fare proprio questa cosa si dice visual merchandising ok traduttore lei le allestiva i negozi quindi gli hai ah ecco ok come la vedi adesso la vedo diciamo diciamo lo specchio mi fa vedere c'è lei e io vedo lei però diciamo lo dico con lo specchio quindi c'è la la sua c'è lei rosanna ok e poi si vede proprio lo vedi ad occhio nudo dentro proprio vedi come è fatta dentro quindi questo spazio spesso quando io descrivo quello che vedo io quando entro dentro di me tra virgolette io vedo come se fosse una una grossa stanza circolare c'è una sfera ok quindi sono dentro la sfera ci sono tutte le pareti su queste pareti ci sono tipo delle delle anse degli sportelli e dentro gli sportelli ci sono le emozioni che mi fanno discordanti dicono che mi fanno stare male quindi io apro lo sportello e leggo la frase e da quella frase di poi faccio delle azioni per appunto stare meglio quindi nello specchio io vedo questa cosa qua la strada aperta di i figli che fanno i figli come al solito quando vedo i figli sono sempre molto entusiasti soprattutto più piccoli sono più saltella no la madre è allegria la madre è un po la vedo un po spaventata si guarda intorno come per dire chissà se questa cosa la potevo fare e se e se non lo potevo farsi un'unità perché l'ho fatta senza di colpa religioso e il marito non è venuto no a chi altri c'era non c'era nessun altro ma ok controlla un attimo la casa il cane non ha tutto a posto la casa ok abbiamo finito pronto a tornare disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo